Un grande ace per chiudere una partita lunga e difficile. Loro sono difficili, loro difendono tanto, ma tanto tanto. Lo sapevamo che difendevano tanto, ma oggi veramente hanno fatto qualcosa di bella. Leale oggi è stato ferico, ha fatto una grandissima partita. Secondo me abbiamo lavorato tanto di squadra, anche se eravamo sotto tante volte, ma penso che dobbiamo continuare a migliorare, dobbiamo continuare a avere le nostre certezze e sapere che siamo forti, sapere che possiamo stare in campo contro qualunque squadra e giocarcela. È questione solamente di crederci e di dimostrarlo. Oggi non abbiamo molato e penso che da oggi possiamo capire un pochino che se non moliamo possiamo farcela contro tutti. Non avete murato e anche in battuta non siete andati così forti come al solito? Loro sono grandi attaccanti, provavamo a metterli in difficoltà sulla recessione e comunque anche se sono un centrale, loro giocavano sulle mani e ritornavano la parola, quindi hanno fatto delle cose molto buone loro. Niente, adesso pensiamo un riposino domani e dopo dobbiamo continuare a lavorare che la settimana prossima è ancora più dura. Che condizioni e come stai? Bene, sì, me sento bene, devo continuare a lavorare, penso che devo continuare a prendere fiducia su me stesso e penso che piano piano devo migliorare. Grazie.